La tua impresa è molto più di un lavoro, è il tuo mondo. Gli strumenti che usi tutti i giorni ti aiutano a farla crescere, come i servizi digitali pensati dalle camere di commercio per gli imprenditori come te. Ad esempio, con i libri digitali, puoi digitalizzare, conservare e gestire a norma i libri sociali della tua impresa, senza limiti di spazio e di tempo, in tutta sicurezza. Tramite impresainungiorno.gov.it puoi compilare e inviare pratiche in modo facile e veloce, come la scia, per ristrutturare la tua attività ed essere subito pronto. Puoi firmare digitalmente le pratiche, i documenti e i contratti anche da tablet o smartphone, grazie al token wireless. Puoi accedere a tutti i servizi online in modo sicuro e con un'unica identità digitale, speed e cns. E puoi inviare una fattura elettronica gratuitamente, in pochi passi e a norma di legge, con tutta la sicurezza che ti danno le camere di commercio. Con il cassetto digitale dell'imprenditore, hai i documenti della tua impresa sui tuoi dispositivi. E puoi condividerli ovunque ti trovi e in ogni momento. Su registroimprese.it puoi trovare nuovi fornitori per la tua attività e vedere le informazioni ufficiali e sempre aggiornate di tutte le imprese italiane, qualunque sia la tua esigenza. Delle camere di commercio ti puoi fidare perché sono sempre dalla tua parte ed hanno a cuore la cosa che per te è più importante, la tua impresa. Grazie. Grazie. Grazie.